e poi Ibrey dice eh fai registra una partita di cosa poi 4000 cose.. di devo farmi una sentinella ehhh una una sentinella Non escono 5 Mamma mia Non escono 5 Escono 4 Per vedere se ti rispauna Devi avere Un minuto Tipo 2 secondi Qualche mille Guarda il danno di Lorenzo Oh, quella non mi ha spavolgato Bella Bella Eh, sembra che non mi hai detto niente Eh? Non mi hai detto niente voi, cazzo Bravo, siamo qua Eeeh Guarda, spammata di lupo a chiotti XD Spammata da lì, pangolino Pangolino Io non avevo nessuno contro la mia web Pangolino Quello era afka E invece è andato sotto per retta, una seconda Pangolino Guarda, ti lupo a chiotti di merda Coglione di merda Esatto 10 secondi, coglione Dominetto 64 cm Dominetto Esatto Tattica lenzina sta sondaggio Oh, ma dove vanno amico Ma che se sono metà, se sono per separatio Che metà si sono separati, mannaggia Mi chiede le cose di Aya ragazzi Fatelo fuori subito perché qualcosa li fa abbastanza male No, può gradare, non mi dice nessuno Può gradare, sta cazzo Ma che ti vuoi shotte qui? No, ma te li vuoi shotte tutti Ma quanto esiste? Ah sì, oh, ma te li vuoi shotte tutti Sì, sì, ne bastano due, ne bastano due cose, io ti fanno al culo Oh, ma te li vuoi shotte tutti Ne fai due con della fanteria davanti e alla fine Poi aveva gli stronzini dei miei wolf che ho deciso di andare sotto per retta Eh, c'è solo wolf, cioè Che cazzo c'è? Ti lamenti pure Il mie lamento è perché c'è il tuo stronzio dietro che non ti va a fare Ah, ma intanto ho vinto la wave Eh sì, sì E' vinto? Eh no E' no Eh, volevo Eh, ma io ho vinto l'uomo No Oh, percaputta Guarda il tuo pangolino di merda Guarda, me sta sfondando tutto Mi sta sfondando E' un po' come dire i xd, perdi lol Lol, lol Cos'è? Guarda il tuo pangolino là che continua a rompere e tocca da dietro Xd Adesso iber fa fail per colpa tua, guarda Io l'ho detto che quei cazzi di temple all'è andavano fermati, nessuno mi ha sentito Guarda, guarda Eh, hai lasciato un pangolino con 5 di vita Dove il suo pangolino ha? Ha pietrificato pure Ha pure anche Perché non so pietrificare il suo pangolino Ma quello lì attacca volanti? Ma perché recupera vita il pangolino? Scusa, perché stai recuperando vita? Perché stai recuperando vita? Guarda lì, perché stai recuperando vita? Stai recuperando vita Ma io sono serio, voi scherzate, ma io sono serio Eh, ma perché recupera vita esatto Non bisogna un attimo, vedi? Ah, quella è grana, via No, quella aumenta la vita l'upgrade L'upgrade, no, l'upgrade aumenta il danno dei pangoli Non è che aumenta Ho capito, perché recupero la vita così? Scusa, non hai senso? La regenerazione di rune? Boh, mai visto però Anzi, i Templar sono Non sono meccanica, eh Sono Biological Vabbè, sono biological, sì Ma quello spamma pangolini, basta, cioè Eh, faccio da fare Non so, da aereo ho fatto tanto Non hanno niente di anti-aereo Ma che diavolo Che poi quando muoiono i pangolini si girano Ecco, esplosi tu i tuoi cosi Allora, sta attento Non spammare tuoi più strelli Perché i granatiri basta una granata e un shot a tutti Eh, ma infatti io non sto facendo da più stare adesso Guarda, se ti rende i soldi C'erano i tigri bianchi del bengala Ho ruotato swag Io non pago la vita Esatto Sono figli di puttana note Ah, quello lì c'ha 4.500 Se va a 5.600 fa il buon Dragon, eh Lo, io guai Ha fatto 4.800, quindi Ha speso uno da 2.400 Cazzo è 2.400, Yoshi Che ricca Ti fa vedere cosa ha fatto No, non me lo fa vedere Deve uscire la wave Ha fatto Yorsi O... Che senso da fare Yorsi? Scusa un attimo Qualcosa da 2004 ho speso quell'altro Cosa? Perché? Coglione, quello non ha capito I temple lì vanno potre... Protetti Cioè, da soli sono inutili Ah, no, ho fatto il buon Dragon No, aspetta, il buon Dragon No, ah, 4.000... 4.600 è vero, il buon Dragon È anti-aerea, io non ho anti... Ah, no, ho gli azzurro Dragon, giusto Però io però il problema è che sto fa... Cioè, adesso questo vuoi farà fail Perché vuoi così ti non potrò far fuori io No, ma lo tiro giù io adesso No, no, no Aspetta Col cazzo che ti tiro giù io Guarda, ti potenziare il cicciubello, là No, no, proteggete il mio Dragon Il mio Dragon Ma che è stronzata Ho messo l'uovo ma non me l'ha fatto mettere Che bacchio Non me l'ha fatto mettere l'uovo, guarda Ma ti ha ciucciato soldi? Ma ti ha ciucciato soldi, figlio di puttana Eh, sei inutile, madonna Anche il gioco te lo dice, sei inutile Che è stronzata, dai Ah, minchia, ma siamo già... Oh, allora, perfetto Ma fa giù lo? Beh, gli azuri dragon sono più potenti degli unicorni Non so, non so che dirvi Ah, perfetto Qua che talen? Io pensavo che ci schiacciavamo Gli unicorni sono potenti contro quando c'è tanto ground attack Quando danno io per tutti, fanno malecane No, mi è morto un drago Oh, soldi per la mini-air Eh, quello fa roba pesante Cioè, tutta roba pesante Perché i panzoni sono dietro i micosi? Non lo voglio dire Oh, che cazzo l'ho posizionato ancora Non lo capire È tuo uovo quello? No Upgrade Spero che non sia il mio Perché il colore è di blu Quanto è l'uovo Ho preso l'uovo Ho preso l'uovo, mannaggini Oh, miniera, ma dittemo, sta cazzo di miniera Ma che l'ha detto, Giulia? Ma porca, ma dittemo, no, l'ho fatta apposta, mannaggia No, vabbè, dai, si spara sui miei draghi, dai Già come se non fosse... non siamo in... E' fatto te, vero? Guarda, sì, per forza, stavolta mi sei ricordato Oh, 100 Eccolo qua, eccoli qua, dai Dammi i gold No, gold un cazzo, mi arrivano Ti adatti a me Sai cosa dovresti fare? Fare l'uovetto su di te In modo che li distruggi te Infatti ho già recuperato il colto Distruttivo Ah, li distruggi te, ma che cazzo Ma se c'è il river davanti Eh, non mi ha già fatto così Quanto fa' con cosa? Ma è qualcosa lì, guarda, il volante E' bravo, oh, bravo Non ce lo possono fregare, no Impossibile che ce lo fregano Mi gliel'hai detto Guarda, guarda, dentro di noi, guarda, dentro di noi è andato, tutto dentro Eh, ti piace dentro, schifo Dai, no, 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 stai black tempera che toccano i draghi No, cazzo toccate i draghi Questo che male Te li sciolgo, non ve lo dico Eh, però li sciolgo, anche io li sciolgo, quello è bello Facciamo attenti, perché se no Ma ancora finiti per Bondrego, mi sto facendo solo un teire fra poco Ti ha smesso Dai draghi, attaccate sti Bondrego, no Esatto Dai, sono nostri i tuoi No, sono loro Tu perché te l'hai fatto? Mi sono detto, ma l'ha fatto te Mi sono detto, ma l'ha fatto te E te l'hai fatto fuori, praticamente E' durato un cazzo E' durato un cazzo Vabbè, 600 mi ha dato Eh, ma ha preso il tempo, vedi Tanto costava 200, dovevo buttarlo su un casino di gold Aia Scusa, quelli da quando ho messo mille gold Cosa mille gold? Eh, qui così, devi tirare la cosa Boh, non l'avranno mai buttata Sì Io tra poco faccio un altro uovo Ottimo, ottimo Io devo chiedere una cosa, allora La wave del granadier è la prima Clicca, clicca sulla destra Sono i tuoi turni quelli E' la prima Mi ha dato 700 circa, madame Un altro uovo non lo posso mettere, non lo troppo Ecco che arrivano Ma dai, ma sei un pirla Ma dai Cosa vuoi essere stupido? Eh, che cazzo l'ho detto kindermin? Ma che cazzo fai pure te? Ma sei scemo Oh mio Dio E' bella, bella Guarda, guarda No, diamo il gold senza tutti Qualcuno ha messo pietrification senza dire un cazzo di niente E' qualcuno ha messo l'uovo senza dire nulla Mannaggia 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 Cazzo vuoi andare, coglione, ma Eh, yeh Mamma, ma ho edz proprio l'altro, senti Cazzo, ma cazzo Così facile quanto la mamma diipro quando c'è da scoparsela Spacco Attenzione eh Oh, sennò ho aumentato di grado Minorair D Attenzione Ah, silver 1 3 win E si arriva a gold 4 E' una win e si arriva a gold 4 Esatto Cosa? Tu, pezzo di merda Tu le tattiche del cazzo Se sei più bravo di tutti noi sia più scarso di tutti noi Che cazzo è possibile? Madonna, guarda Ho fatto più gold Più produzione, eh Ah, hanno due jaguai Quindi, ragazzone, avete capito cosa dovete fare? No Antiaerea Antiaerea Un po' Tu fai un po' di cose, sentinelle, dopo Guarda, no? Si comincia a fare aereo Tu fai un po' di antiaereo Intanto c'è Coso Fagiolo Che Eccolo Che fa anche lui antiaerea Ma che è primo? Sono io? Eh Allora Sparmiamo questi I piccoli Buddha I Buddha I Buddha Eh, là, non ha una novità visibile Se non magari Quasi rischi, forse Non stare attenti Sì, ho messo una... Eh, ma ho sbagliato Eh, raga Dai, venite sotto la torre No, col cazzo non è sotto la torre I suoni cinesi, madonna I giochi cinesi Quelli Fanno sti versi C'hanno ste vocine qua C'è, si capisce proprio che è cinese sto gioco Logbar Esatto Anche quello c'è No Oh, cazzo Logbar Eh, eh Eh Un console così fa Eh, eh Così già Ho capito se stanno vicino i miei sniperi sui sniper Oh, oh, i miei sniper Oh! Eh, fa bravo, fai sniper contro lo sniper Quattro, tre, due, uno Oh, ecco, beh Eh, meno mai che me l'hai detto questa volta Perché se no non... Ovviamente, ui, bravo Sei premiato come Il miglior coglione di tutto l'altro Ah, ma lo stavo già un po' gradando, madonna Dittemi che devo smettere di cliccare Eh, unstoppable, eh Unstoppable 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 Non mi dice Peppe 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 Ti guardi quell'anima di Pepepepepepepepepepepepepepepe eh no era peru peru era peru peru e aumenta e anche sto qua se l'ha attivato adesso å madonna questi in gruppo finally yes i mili schiaffitino un secondo Ancora Oh Cosa c'è in te? Perché c'è un po' di... Aia, hanno vinto pure di usare i potenziamenti, però, eh Capito Oh, hai rotto la minchia, questo peppè Peppero, peropero Peropero Aia, Costantin Non va bene con quei... oh, ma dopo Quanti snap sono usciti fuori Vanno di numero Devi fare anche il tuo numero Esatto, bella ibre Bella ibre Adesso ci accumuliamo noi Sono stato io, in realtà Bella ibre Dai Sembra un occhio stupratore Fatemelo dire Dai, sti qua in gruppo Oh, madonna Sono schifo Cioè, sono schifoni Dai, cose di ibre tutte sotto a torre, dai A tu ti piace andare sotto a torre E... fagiolo Fagiolo L'ho preso... Ancora non ho fatto cosi... Diciti di quanto c'è un più commando, ancora non ce ne sono accorti Io ce l'ho uno da prima, non so se hai capito Ho messo le effetti nel... Ma perché nel caso di io non si sono... non si accorgono secondo me, no? E' come ibre quando va al bagno, no? No li vediamo l'ora no Io li vedo quando funziona No, non li vedono adesso Io si li vedo Ma che cazzo? Cioè, è ultra vista, cioè Minchia, ha cambiato sto qua, ha cominciato a spammare lupi? Ha tolto le cose, ha messo i lupi normali, hai fatto caso? Perché? Oh, non so O forse era l'altro Uve uve e niente uve 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 usas Esatto Oh, il mio primo azzur dragon Arriva in campo Ah no, questo era l'altro loro Cioè No, devo potenziare i primi che vanno in battaglia Buono No, ma va che si potenziano lo stesso quando sono in battaglia, Pirletta Eh, ma... Questa cosa qua degli illusionisti Ne spawnano due, quindi devo farlo prima Ah... Capito? Esatto Ma sono un po' idioti, scusate Non ho capito, ancora non ho fatto Ma dai, ma perché? Guarda Oh, il mio drago, il mio drago Ma il drago si difende prima o no? Invece di stare lì a guardare Quarantanove lupi c'è quel coso lì, scusate Questa c'è, guarda di tanto Volevano fare come con gli altri, hai capito? Volevano fare come gli altri, capito? Andare di numero Però non gli è andata bene stavolta Ieri, il suo allie ha quasi dominato la battaglia Volevano quindi contro la chiama Andando contro la mia amica Esatto Un tanto, mi face col dio, c'è una grigia Stando ammazzando i... Bando eh perchè c'è qualcosa da palena in testa lì, da vision oh guarda quanti cazzo di lupi si è fatto non lo volevo usare un bombigranto ho detto no, non vale la pena cioè madonna quanti cazzo di lupi ha? guarda quanti gold ho fatto quanti ne ha? 60 lupi potenziali al massimo ha? ma non ce la fanno lo stesso non so che tattiche sono tattiche fatte male veramente eh tattiche peru 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 sai cosa mi viene in mente rufi zoro sanji usup cioppa Eccolo, guarda, guarda, ecco, voleva fare lo scaldabagno e l'ha fatta. Era più forte azione di me. Ma sbaglio che non ci danno più rooted, più roba così? Sì. Upgrade, proprio, guarda. In questo quanto è upgrade? 4, 3, 2, 1, upgrade, raga. Dai, solo essenze, come ti darmi essenze, dai, no, finito di darmi essenze. Perché finito di darmi essenze? Perché comunque finisce, non so, non so. 1110. Come diversivo, dopo. Ma dai, che cazzo, potrebbe durare un po' di più o anche, eh? Fanno il comando loro? No, no, sono nostri. Ah, ecco, li vedi, ha spawnato all'improvviso, vedi? Quanti eri, Blazzy? Grazie. Per inizio. Dai, draghi, del cazzo, spaccati quei buon dragon. Ormai te l'ha decimati tutti. No, ma io lo spaccati in chi, guarda? Io l'ho spaccato anch'io, eh? No, è un drag. Bella, io, bella. Ecco. Ecco, doveva fare... Sì! No, bravo, bravo, compimenti! Complimenti! 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 Beh, è meglio, fanno tutti unità, che fanno schifo. Oh, quanto dura sto mind control, però, eh? Ecco, arrivano i draghi, del cazzo. Ma tanto muoiono come niente, guarda, che cado giù davvero, c'è i comando, i due comando fanno fuori un bon dragon, per farti capire. Beh, anche i miei draghi, eh, li fanno fuori. Non ho preso quelli anche, che attaccano anche aereo. Sì, due draghi fanno cagare il cazzo. Oh! Non so se capito. Oh! Vai, Ibre, spara tutto, spara tutto quel cazzo che spari. Ecco. Peru, peru, peru. Hai fatto fuori un comando. Aspetta, prima di fare... Vai. No, buca cazzo, madonna. Ma, ma, guarda! Sono pietrificati col mind control, guarda! Mi, mi faccio, mi faccio il comando, i cosi da solo mi faccio, che cazzo. Hai visto? Sono pietrificati col mind control, che continuano a spostarsi, girano. Che bug! Dai, ho spaccato le cose, dai, fuori di... 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 Oh, ragazzi, io sto per fare una cosa, ma non... Non mi aiutati, vi prego, non mi aiutati. Madonna, cara, porca di quello, putto. Ma che cazzo. Però, 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 però. Però, 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 però. No, ma la cosa... I schiaffettini sono bellissimi, infatti, qui. Oh, cazzo le fai mai controlle, madonna. Orbita il cane in manetta. Che cazzo di tattica hanno operato i schiaffettini? Eh, scatto il bagno. Dai, così, dai, dai. Ah, fanno. Pure il coso. Eh, volevo andare di numero, ma non prego le sbe... Aspetta, chi è? Oh, aspett... Spacco tutto, madonna. No, non c'è tutto, però. Non c'è tutto, eh. Mamma mia, mamma, level up, pure. Due game, mancano due game a me. Vediamo. È un maggior numero di gold ed essenze.